No, non so se non so se farò l'unico con raccoglio, però qui abbiamo una lettera del Presidente dell'Assemblea Romance, che erogia l'Unione di Ligia, e ci volevamo un po' di confermare, per la vita interreligiosa di pace tra i popoli, qui abbiamo la nomina che ho recitato, la nomina di questa parte del Senato Ligico, e qui abbiamo il Times di Londra, che parla del convegno che vi dicevo. Ultima cosa, questa è la nomina che ho recitato, la mia nomina che ho recitato a responsabile degli esali esteri del Partito Aguata, che dovrebbe vincere l'elezione. Grazie.